A seguito delle ultime raccomandazioni impartite dal Ministero della Salute per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie in questi momenti di recrudescenza del Covid, la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri del VCO ha specificato che in tutti i reparti di degenza è obbligatorio, per gli operatori sanitari, gli operatori dei servizi di supporto, per gli utenti e per i visitatori indossati. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.